Che provvedimenti giunti in Consiglio Comunale ieri a Foggia fossero vitali per il proseguo della stessa amministrazione Mongelli era chiaro da mesi. Che su questi si giocasse la tenuta della sua stessa maggioranza, pure, e così è stato, tra prevedibili fibrillazioni da parte dei lavoratori, il Sindaco, con il parere favorevole dell'ufficio finanziario, fa il botto perché passa a maggioranza la rivoluzione dei servizi comunali, piano parcheggi compreso, ma apre ufficialmente la verifica politica riconoscendo di non avere i numeri. La maggioranza arriva all'appuntamento spaccata. E' solo la presenza delle opposizioni, su richiesta dello stesso Mongelli, permette di andare avanti, tra stensioni e voti contrari, ma mantenendo quando meno il numero legale. Le difficoltà maggiori arrivano dai moderati ai popolari, di Sottile De Vito, ma anche dai socialisti, con Angelo Benvenuto e dall'Udc. Toccherà ora al Sindaco riunire tutte le forze attorno ad un tavolo, ma il risultato nel frattempo è raggiunto. Amica, Amagas e Dataf tornano alla mission originaria, ciclo dei rifiuti, distribuzione del gas e trasporto locale. Amica, in particolare con Downy Ambiente, va verso l'amministrazione straordinaria sotto la supervisione del Tribunale di Foggia e del Ministero dello Sviluppo Economico. Amagas chiude l'accordo con i creditori della Blu e si prepara a diventare gnuco con la cessione dell'80% delle quote ad Ascopiave. Mentre viene abbattuto il robusto corollario di società satelliti, Salve Solo, Amagas Rosso e Viola, Amica Gestioni per la parte relativa alla guardiania. Foggia Servizi, dopo aver chiuso in perdita tre annualità, si scioglie e nasce Amacom, l'azienda manutenzioni comunale per immobili e strade. A Gara vanno le cooperative del Verde e Via Libera al nuovo piano parcheggio e targato ATAF, con nuovi emendamenti migliorativi. Due gli obiettivi, migliorare i servizi alla città e tutelare i livelli occupazionali, avvalendosi di ammortizzatori sociali in deroga e di precisi vincoli per il privato. Ci muoviamo sul filo del rasoio, ha dichiarato Mongelli, avvisando la maggioranza. Per le opposizioni resta una manovra al buio che non dà garanzie a vantaggio al privato, mentre il PDL dichiara lotta al piano parcheggi dinanzi al tar.